Dare ai cittadini di ogni comune della provincia di Frosinone la possibilità di usufruire dei servizi bancari, indipendentemente da quanto il comune di residenza sia grande. Questo lo spirito della Banca Popolare del Cassinate che inaugura in pochi giorni due nuove postazioni Bancomat a Colle San Magno e a Picinesco. La Banca Popolare del Cassinate ha nel suo cuore, nel suo DNA quella che si chiama la cosiddetta centralità del cliente, centralità del cliente che non significa soltanto prodotti a disposizione del cliente ma significa anche accoglienza per il cliente, contatto col cliente, conoscenza del cliente. I servizi erogati si rivolgono alla cittadinanza costretta per svolgere le normali attività bancarie a viaggi chilometrici, ma non solo. Pensiamo ai titolari di aziende, attività commerciali o ai turisti che affollano la zona sud della provincia di Frosinone, talvolta costretti a lunghe traversate per prelevare o depositare contanti. Questo è un passo avanti per il paese perché rappresenta un servizio più per i nostri cittadini. Logicamente precedentemente noi ci dovevamo spostare giù a Roccasecca per qualsiasi predivio ma anche per qualsiasi deposito. In questo modo i cittadini, la cui maggior parte sono anziani quindi hanno pure problemi di trasporto, hanno la possibilità di effettuare delle operazioni qui sul posto. Sicuramente per noi è uno strumento che consente un più facile accesso ai servizi bancari di tutte le nostre imprese, le nostre attività commerciali, le nostre attività recettive, ma soprattutto per i nostri turisti, tanti turisti che arrivano qui a Picinisco e anche per i nostri tanti concittadini che vivono all'estero e in varie occasioni tornano qui in paese. Le inaugurazioni delle due postazioni Bancomat si aggiungono ad un'altra importante apertura avvenuta qualche settimana fa a Sora. Iniziative che si inseriscono in un progetto molto più ampio che punta all'Interland del Castinate e alla città di Formia, territori che presto saranno muniti di nuovi servizi bancari. Non saranno soltanto questi i Bancomat che noi andremo ad aprire, ma ce ne saranno altri in un prossimo futuro. Stiamo ancora decidendo sulle zone limitrofi di Cassino come Sant'Angelo, Caira ed altri piccoli incendri che sono completamente sprovvisti di servizi bancari.